Fonditalia con Lucia Scardoni a Modena Schipass dove riceverà poi premio per lo Schirol perché sei stata grande protagonista nel mondiale di Schirol sì in effetti anche se sono una fondista quest'anno vengo premiata per lo Schirol è stata una bella esperienza che ho avuto l'opportunità di fare quest'estate mi sono anche divertita la Curespiesa non si è andata lì soltanto per divertirti nel senso che poi l'hai presa molto seriamente hai disputato veramente delle belle gare sì comunque lo Schirol mi piace quindi ovviamente l'ho fatto per divertirmi perché mi faceva piacere parteciparvi però ovviamente sono sempre delle gare quindi lo spirito c'è la competizione è venuta fuori poi come sta procedendo la preparazione siete reduci dal raduno di Livigno? sì siamo appena tornati dal raduno di Livigno abbiamo fatto dei dieci giorni di carico sugli sci abbiamo avuto l'opportunità di sciare appunto nella snow farming di Livigno e diciamo che adesso faremo un paio di giorni di riposo e poi si ritorna sugli sci ad Avos e poi è tempo di iniziare le gare mi hanno detto che ci hanno dato giù duro a Livigno con gli allenamenti sì abbastanza è stato un bel periodo di carico abbiamo fatto tre settimane belle intense l'ultime prima di iniziare la stagione sono state impegnative però è andato tutto bene ecco le tue sensazioni anche vista la tua grande esperienza anche confrontandola con gli altri anni a che punto sei? ma diciamo che mi sento bene appunto ho avuto un periodo di forma durante i mondiali come era stato previsto insomma anche dall'allenatore poi ho avuto un piccolo calo adesso mi sto riprendendo e speriamo di arrivare proprio in forma per le prime gare di coppa del mondo in un anno senza olimpiadi o mondiali qual è l'obiettivo? ma sicuramente è quello di riconfermare i risultati che ho fatto l'anno scorso nelle sprinta classico e poi sto aspettando ancora di vedere un salto di qualità anche nelle distance le tue compagnie di squadra come le hai viste in questo periodo? ma diciamo che adesso più o meno stiamo tutte bene chi era più o meno stanco anche dovuto a questo ultimo carico che abbiamo fatto però siamo una bella squadra e mi sembra che stiamo tutte bene siamo tutte cariche e pronte per la stagione hai visto Joaug in questi giorni anche le altre norvegesi che impressione ti hanno fatto? sì Joaug non si è fatta tanto vedere diciamo ho preferito fare altri allenamenti e non sciare e le altre sì come sempre sembrano sempre impossibili vederle così però ce la metteremo tutte l'ultima cosa partendo dal fatto che sicuramente Joaug è la grandissima favorita per la vittoria della Coppa del Mondo secondo te qual è la sua avversaria più pericolosa? ma sicuramente Osberg ma anche le russe credo che le daranno filo da torcere grazie a tutti grazie a tutti